Una delle piaghe caratteristiche del nostro tempo, che lo descrive in tutti i suoi limiti ridicoli e pericolosi, è l'ipermotivazione. In fondo, la maggior parte delle persone che non riesce a fare qualcosa, che non riesce ad apportare un cambiamento, un'evoluzione nella propria vita, va in cerca di motivazione. E d'altra parte, quello che viene offerto alle persone è quasi esclusivamente motivazione. Quindi, al di là del contenuto di quello che si dice, quello che conta è la capacità, lo stimolo che io ti do, il fatto che ti dico che si può fare. In fondo, sembra tutta una ricerca di qualcuno che ci dica si può fare, cambiando ogni tanto le parole, a volte un po' più complicate, nella maggioranza dei casi molto molto semplici, sempre uguali, perché poi i motivatori sono quasi tutti uguali e questo forse è il problema più grave. Il fatto è che ci sono persone motivatissime, fomentatissime o persone che seguono corsi, sia a livello lavorativo che a livello personale, in cui quello che ti viene detto è davvero riassumibile con Sì, dai, ce la puoi fare, grande, più forte, più forte, più veloce, più veloce, ma in fondo noi abbiamo scambiato la motivazione per lo scopo. Ed è questo il problema, è questa la ragione per cui si va in cerca di qualcuno che ci motivi, che in un modo o nell'altro ci dia la spinta per fare delle cose e per produrre. Perché? Perché abbiamo confuso la creazione con la produzione, quindi siamo convinti che produrre tante cose significhi creare, però poi guarda caso abbiamo una specie di insofferenza, di insosisfazione, perché non è quella la creazione che vorremmo davvero, quella è solo un'iperproduzione. E dall'altra parte abbiamo confuso lo scopo con la motivazione, cioè abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica che ci motivi a fare le cose, ma in fondo perché le facciamo? Cioè va bene darsi degli obiettivi da raggiungere, da avere l'idea di star compiendo un percorso, ma questo percorso è nella maggioranza dei casi, nella quasi totalità dei casi, un percorso ordinario, in cui alla fine quello che voglio è avere più soldi, più benessere, ma delle cose che sono davvero quasi sempre misurabili. Ma qual è lo scopo? Perché alla fine l'eccesso di motivazione ci fa dimenticare le due domande fondamentali, dove sto andando e perché ci sto andando. Non puoi smettere di domandartelo, poi magari anche se te lo continui a domandare quella produzione la fai lo stesso, a quelle creazioni cerchi di dar vita lo stesso, ma la maggior parte delle persone si concentra solo sulla motivazione. Il fatto è che la motivazione è una procedura, è una pratica e quindi quello su cui tu ti concentri è semplicemente la pratica. Cioè va bene io mi sveglio la mattina e faccio questo, questo e questo. Non mi domando altro perché alla fine non ce la faccio perché mi provoca ansia, perché mi provoca un senso di straniamento nei confronti del mondo e non lo riesco a gestire. Quindi mi concentro solo sulla procedura, su quello che devo fare. E dato che è solo una procedura e non è una visione del mondo, invade talmente tanto la tua vita che diventa anche una visione del mondo. Per questo potremmo dire che la motivazione è l'ideologia di questo tempo. In origine del totalitarismo Anne Arendt scriveva Le ideologie pretendono di spiegare il mondo con una sola idea. E la motivazione è simile in questo, cioè la motivazione ti dice devi essere motivato, devi essere motivato e devi produrre. Tutto il resto non conta. Cioè concentrati solo su questa cosa qui, solo su questa porzione di realtà. Non guardare tutto quello che c'è intorno, non ci badare perché è troppo complicato. Concentrati solo su questo. E allora che cosa fai? Diventi parte di un meccanismo enorme di cui non ti rendi conto. E sai qual è l'altro problema? Il problema è che non dovresti aver bisogno di motivarti. Perché essere motivati è come essere innamorati. Non puoi costringerti, non puoi fare dei corsi per innamorarti di qualcuno. O lo sei o non lo sei. Quindi se hai uno scopo, sei motivato per andare verso quello scopo. Se non sei motivato, se non hai motivazione, è perché non hai trovato il tuo scopo. Cioè se non sei innamorato è perché non hai trovato la persona di cui essere innamorato. Vai a cercare quella persona. Non dovrai sforzarti per innamorartene. È una forzatura la spinta verso l'ipermotivazione. È il tentativo di distrarti, di distogliere l'attenzione da ciò che veramente conta. Cioè lo scopo. Sentirsi in colpa per non essere abbastanza motivati è come sentirsi in colpa per non essere innamorati perché non si è trovata la persona giusta. Meglio aspettare, ma non un abbraccio a concerte. Andandola a cercare questa persona, ma cercando di capire che non è forzandosi ad amare qualcuno che non si ama che si proverà il vero amore. Non fatevi fregare dalla motivazione. Perché vi dà quel contentino occasionale, quel rapporto superficiale che vi può dare un po' di soddisfazione all'inizio, ma poi alla fine vi farà sentire quella carenza profonda, quella profonda insoddisfazione che è quella a cui dovremmo davvero dare spazio.